Questo progetto, lei ha detto sindaco, è l'ultimo treno possibile per recuperare a breve il Teatro Romano. Sì, alle condizioni attuali è questo, anche perché oggi apriamo una fase di partecipazione, di dibattito, di comunicazione e informazione con la cittadinanza su un progetto e un percorso che va avanti da tanti anni. Entro il 20 febbraio le osservazioni dei cittadini? Sì, ovviamente dobbiamo inserire questa partecipazione all'interno di un procedimento che è già avviato, anzi è alla fase conclusiva perché è stato già presentato il progetto preliminare e adesso dovrà essere approvato in consiglio per dare le indicazioni sul definitivo. In consiglio quando arriverà? L'obiettivo è portarlo entro la fine di marzo in modo tale che poi si possa procedere con le ulteriori fasi procedimentali, quindi entro il 20 febbraio le osservazioni, le indicazioni, le associazioni, i cittadini, ordini. Avviamo intanto contemporaneamente anche il litere in consiglio comunale con le commissioni per rendere questo progetto il più possibile condiviso e proseguire anche nella collaborazione istituzionale con la sovrintendenza che ha già formulato le sue osservazioni che sono al momento all'esame di un tavolo che si è riunito diverse volte ma che non va a snaturare l'impianto appunto del progetto, dello studio di fattibilità approvato dal consiglio comunale quasi all'unità nel 2010 e che nasceva già da una partecipazione e condivisione con la cittadinanza che nel corso di questi anni è stata già molto approfondita se non istituzionalizzata. Nel corso della presentazione oggi pomeriggio al Parco della Scienza è stato ribadito che l'iniziale copertura prevista verrà eliminata definitivamente? Sì, fermo restando che una protezione dei rudri è necessaria come in tutti i teatri romani che si conoscono. Noi abbiamo accolto le indicazioni che la cittadinanza ci aveva dato anche durante la campagna elettorale con un atto sottoscritto di non accettare una copertura con una sovrastruttura così come è stata presentata nella prima ipotesi progettuale. Per questo come primo atto abbiamo scritto al progettista che ovviamente ha accolto la volontà della nuova amministrazione che però derivava, lo voglio ribadire, da già un confronto, una partecipazione con i cittadini, da una amministrazione di volontà della cittadinanza di cui noi siamo stati interpreti ed è stata accolta. Quindi nel progetto preliminare che è stato depositato non è prevista la copertura con la sovrastruttura. Sindaco, il finanziamento necessario c'è tutto? Sì, c'è tutto. Stiamo rimasto sempre un po' nel dubbio o nel dibattito aperto quella quota di finanziamento della Regione. Questo ho già dalla precedente legislatura confermato anche in questa. Adesso stiamo lavorando per chiudere definitivamente anche l'ultima quota progettuale e con la Regione che ha nuovamente garantito, così come fatto in passato con annunci, ma nuovamente è stato ribadito, anzi io spicherei anche un impegno forte da parte di tutti i candidati alla carica di Presidente della Regione Abruzzo per un recupero di un'opera, ripeto, che non appartiene solo ed esclusivamente alla città di Teramo, a Teramo capoluogo di provincia, ma appartiene veramente ad una rinascita complessiva del territorio provinciale e regionale. Grazie a tutti.